Un iPhone X, mille euro No, voglio proprio mille euro Di sub Mille euro di sub se fai venti bombe Allora ragazzi, se Zodiac Claccia questa partita, gli regalo Dieci sub War Cup, vai Sei l'ultimo posto Se la vinci, diecimila dollari Eh, la madonna Eh beh, siamo lì, eh, con dieci sub No Siamo a quel Siamo più o meno lì, eh Sei Sei che ho rischiato 50 euro Adesso, adesso, adesso metti tu In parla dei tuoi ondi Beh, facciamo a botta, facciamo una volta L'altro Poi te la inventi Magari Se la vinciamo, vabbè, ne dono 5 Di sub, bravo, bella tattica Bella tattica Mi piace, mi piace, se adesso vai a sinistra C'è la mia scheda, perciò Ahia, boomer Mi piace Bravo Posso giocare questo pompo Beh, bella mossa, bravo Ricky Mi auguro, fortissimo Oddio, che tecnica, ragazzi Bella mira Anche lui, eh Ti regalo un iPhone X se vinciamo il game E tu devi fare 20 bombe Un iPhone X, 1000 euro No, voglio proprio 1000 euro di sub 1000 euro di sub se fai 20 bombe Va bene Accetta Devi fare 20 bombe, eh Non sono poche Va bene, va bene Va bene, va bene, va bene 20 bombe C'è un boomer qui Zotti, 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 zotti C'è un tizio da me C'è un tizio da me Ma che dove ne vuoi fare le 20 bombe Se non mi dai una mano Sei un boomer Sei un boomer Sei un boomer Tocca a te Preparati Ma qua tocca a te Darmi la sfida Se fai 10 kill 10 sub No, aspetta, no No, no, l'hai detto, l'hai detto Finzi, sì, sì No, 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 zi, l'hai detto Zino, tu l'hai modificato più di una volta Sei zitto Ma che dici? 13 Ci voglio fareste kill Devo buttarne lo start, via Per un torno fra No, 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 no Fra, fra, fra Sono un torno Sono un torno Devo ritornare Eh, no, no, no Non ho un'arma Fra Con cazzo, poi c'è Le chi le c'è Devo fare kill Mi butto allo start Zitti, zitti, zitti No, fra Lo sto facendo Hai fan e te 20 kill ti ripropongo la sfida di prima 20 kill 1000 euro va bene 1000 euro di sub e poi penso che 1000 euro di sub non ci stiano neanche nel mio canale penserei a avere troppi pochi troppi pochi follower infatti quindi vabbè di do a tutti i tuoi follower al massimo direttamente 1000 euro no no sub in sub in sub stai zitto devi stare zitto in sub va bene 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 non ci credo no no tocca a te stai zitto ci dobbiamo buttare allo start eh prima città e se riesce a fare eeeh se riesce a fare 4 kill prima dell'arrivo dei 40 delle 40 persone rimaste 5 sub allora abbiamo detto prima città puoi scegliere pozzo pantano pozzo 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 perfetto è la prima città 99 è quel boomer di prima in lobby ma era il boomer di prima in lobby ma tu madre della clutch 5 sub cosa intende per clacciare tutta la partita ah tutta la partita 5 sub senza camperare ti devi andare a cercare le kill come mi devo vabbè allora facciamo facciamo così alza la vostra in gioco se fai se fai almeno 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 quante kill stai adesso 3 3 se fai almeno 10 tanto ce la puoi fare sono 41 41 se fai almeno 10 10 euro ovviamente 10 kill e la vinci non è che no sto cazzo eh certo fra 10 kill e vinci fra non sai neanche aiutare è un bot eh se ne mancano altre 6 non credo 6 kill ne devi fare altre 4 più partita vinta ovviamente vabbè certo che menzionerò tutto lo staff non so se manco se esisterete più sei un boomer la sfida adesso è ci dobbiamo buttare allo start scelta tra siepi pozzo e pantano siepi e se riesce a fare sempre 4 kill prima dei 50 adesso perché sono più no non è vero prima dei 40 prima dei 35 anzi senza senza morire e però dobbiamo vincerla ok quante kill 4 allo start ma do eh what's up pad ma sono stupido ok a fra io c'ho 3 kill sono rottissimo 1 kill bravo bravo vedi che boomer questo ma ti ho appena detto che giochiamo è assoluta ma regà ma che ca minigun non è possibile 10 kill vinci la partita e 10 euro vai guarda che tryhard ne fai altri 10 kill altri 5 kill ma sei morto non ci credo non ho mazzo bene